Musica Buongiorno a tutti gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh. È venerdì 17 febbraio 2023, buongiorno da Andrea Vignolini, siamo pronti per leggere le prime pagine di oggi con i titoli e le notizie principali, notizie che ripercorreremo con i servizi di Toscana TV e commenteremo insieme ai nostri ospiti. Partiamo subito dal titolo del Corriere della Sera, l'apertura indagato del Mastro IPM, ha rivelato segreti, Fratelli d'Italia fa quadrato, no a dimissioni. Il Movimento 5 Stelle lasci, violazione di segreto d'ufficio, è questa l'accusa contestata al sottosegretario della giustizia Andrea del Mastro delle Vedove. È indagato dalla Procura di Roma per aver raccontato il contenuto delle conversazioni in carcere dell'anarfico Alfredo Cospito al deputato Giovanni Donzelli. Il nodo delle dimissioni, il Movimento 5 Stelle spiega, deve lasciare. E poi, sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, l'altra notizia che riguarda invece il mondo dell'edilizia, il super bonus, lo stop del governo. Giorgetti, così fermiamo una politica scellerata, la protesta dei costruttori, il decreto, blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura sul PNRR, sì alle semplificazioni. E poi a centro pagina la fotonotizia, Brignone, un argento per sentirsi tra le grandi, mondiale di sci, terza medaglia come compagnoni. E Costner, medaglia d'argento nel gigante per Federica Brignone e mondiale di sci, 12 centesimi, l'anno separata dall'oro, finito al collo di Michela Schifrin. Brignone è aggareggiato dopo quattro giorni di febbre. E poi l'altra notizia che riguarda anche la Toscana, perché dei fortunati vincitori si sono registrati anche nella nostra regione, in particolare in provincia di Firenze, supera l'alotto 90 quote, centrato il 6 dei record, i 371 milioni sparsi in Italia, ognuno si porta a casa oltre 4 milioni. Andiamo anche sulla prima pagina del Quotidiano della Repubblica con le notizie del giorno e i titoli di oggi. Eccoci sulla prima pagina, blitz contro il superbonus, il titolo di apertura. Il governo interviene a sorpresa, stoppa lo sconto in fatture e la cessione dei crediti. Meloni, buco enorme, dovevamo intervenire. Protestano le associazioni da Anfe a Confartigianato, così affossate famiglie e imprese. L'ira di Forza Italia, colpiamo i nostri elettori. E poi Panetta frena sui rialzi dei tassi della BCE, no a corse pazze, affari spenti. E vedremo ovviamente anche l'intervento di Fabio Panetta, componente italiano del direttivo della BCE, che parla contro i falchi che pressano la Presidente Lagarde, in particolare sul tema del rialzo dei tassi, che ha delle ripercussioni chiare e dirette sui mutui e sui prestiti. Andiamo avanti, la cronaca in rete, c'è il video del mio stupro, così Alice è stata spinta al suicidio. La storia di Alice Schembri, morta il 18 maggio 2017 ad Agrigento, aveva 17 anni, l'ultimo messaggio che viene reso noto adesso. Poi sulla prima pagina della Repubblica di oggi, anche ovviamente la vicenda del Mastro. Indagato a Roma, rivelazione di segreto d'ufficio dagli anarchici, minacci di morte a manager di Iveco. E poi sempre sulla prima pagina di Repubblica, vedete Super e Nalotto, un 6 da record, 371 milioni, vinti da 90 italiani. Ovviamente vittorie e fortunati vincitori anche in provincia di Firenze. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Nazione con i titoli di oggi. Il super bonus è arrivato al capolinea, il governo blocca lo sconto in fattura e la cessione del credito. Giorgetti ci costano 2000 euro a testa, mettiamo i conti pubblici in sicurezza. Costruttori e opposizioni, imprese e famiglie sull'astico, caro mutui e prestiti, monito di panetta, tassi su, la BCE, non guidi, affari spenti. Sempre sulla prima pagina della Nazione, la fotonotizia a centro pagina, vedete il 6 dei record, 371 milioni, super e Nalotto, centrato il jackpot più alto di sempre, la vincita con un sistema di 90 quote da 5 euro ciascuna. Poi nel taglio alto, viola show, 4 reti al Braga, qualificazione a un passo, Fiorentina, Europa da sogno, doppiette di Jovic e Cabral, spiega il quotidiano La Nazione in edicola. Oggi andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano Il Tirreno, l'edizione è quella di Firenze, Prato e Empoli. Il titolo di apertura, sgravi per i cantieri, Firenze, l'appello dei commercianti di Piazza Libertà, le proteste a Campodimarte e i progetti del Comune. E poi vedete nel taglio alto la notizia che riguarda Prato, Faggi a Biagioni, fa il garante, la polemica all'interno del Partito Democratico, con il vice sindaco Simone Faggi che replica il segretario PD che sostiene Elislein. Sulla prima pagina poi anche ovviamente la Fiorentina, il ciclone viola spazza via il Braga, le doppiette di Jovic e Cabral blindano il passaggio agli ottavi di Conference, così la prima pagina del quotidiano Il Tirreno. Ancora con le prime pagine di oggi stiamo sulla prima pagina di Libero, il titolo di apertura, l'offensiva delle toghe, minacce di morte anarchiche ma i PM indagano il governo, il sottosegretario del Mastro sotto inchiesta per rivelazione di segreto su Cospito, mentre l'opposizione festeggia i compagni del terrorista in Vieno Bossoli ai manager. E poi Feltri e le notti di Arcore, vi racconto io le cene eleganti, spiega Vittorio Feltri a proposito ovviamente delle, diciamo dopo l'assoluzione perché il fatto non sostiste per il processo Rubiter di Silvio Berlusconi. Il giornale sulla prima pagina, bonus e cartelle, da oggi cambia tutto, ristrutturazioni e fisco, il governo blocca sconti in fattura e cessione del credito, costi fuori controllo, online il sito per la rottamazione. E poi vedete smontato il teorema, l'irriducibile silenzio rosso sulla soluzione del Cavaliere, spiega il giornale sulla prima pagina di oggi. E noi proseguiamo ovviamente con tutte le notizie, i fatti del giorno del 17 febbraio, grazie all'almanacco di oggi. Buona giornata con l'almanacco barbanera, oggi è il 17 febbraio, si ricorda Sant'Ilario. Il nome Ilario deriva dal latino Ilarius, che significa ilare, allegro. È molto diffuso nella variante femminile. Dice il proverbio, corto febbraio, mezzo dolce, mezzo amaro. Sono nati oggi Lamberto Sposini, Michael Jordan, Paris Hilton. È il 17 febbraio 1600, quando Giordano Bruno viene messo a rogo per eresia a Roma, in Campo dei Fioi. In questo giorno del 1932, il fisico britannico James Cadwick annuncia la scoperta del neutrone, motivo per cui gli viene assegnato il premio Nobel nel 1935. Infine, è del 17 febbraio 1984, la prima mondiale di C'era una volta in America di Sergio Leone, che si tenne in Canada. Tagora ha detto, la farfalla non dispone di mesi, ma di attimi, e il tempo le basta. Arrivederci da Barba Nera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. E noi proseguiamo con i titoli di oggi, andiamo anche sul fatto quotidiano. Il titolo, il marito della ministra, aggira la legge con due società gemelle. Calderone, lei è titolare del lavoro, lui di due sigle, con stesso indirizzo e telefono. I dipendenti accusano, il consorte presiede la fondazione studi di consulenti del lavoro, sdoppiata in una SRL, trucco per licenziare, eludendo l'articolo 18. Andiamo sulla verità, il titolo di apertura, gli impostori verdi gettano la maschera. Il direttore del demanio esclude di rendere green gli edifici pubblici nei tempi stabiliti dall'Unione Europea. Mica ho la bacchetta magica e il suo cognato Gentiloni ammette, sulle auto elettriche, fattibilità da verificare, però intanto tirano dritto e noi paghiamo il conto, spiega la verità. Il manifesto, il titolo di apertura non si fa credito, il riferimento ovviamente è al superbonus e alle misure prese. La clamorosa decisione di Palazzo Chigi sul superbonus, stop immediato a tutte le cessioni dei crediti e blocco degli acquisti da parte delle regioni e gli altri enti locali. Limiti allo sconto in fattura, panico nelle edilizie, i costruttori rischiano il tracollo per 25 mila imprese. Opposizione sulle barricate, il sole 24 ore, bonus fiscali, il governo dice addio a sconti in fattura e cessioni dei crediti. E poi nel taglio centrale, PNRR, poteri accentrati su fitto, tempi tagliati per le scelte della pubblica amministrazione. E ancora con invece la mobilità sostenibile, biciclette, piano dell'Unione Europea per spingere il settore con il taglio. Dell'IVA spiega il sole 24 ore sulla prima pagina di oggi. Andiamo anche con i titoli invece della rassegna stampa sportiva del giorno. Il Corriere dello Sport Stadio celebra il 4-0 della Fiorentina a Braga. Vi vogliamo così, Fiorentina splendida, vince 4-0 a Braga e ipoteca gli ottavi di Conference League. Jovic e Cabral fantastici, due gol a testa e quinto successo consecutivo in Conference. Italiano grande gioia, la Lazio piega il Cluigi 1-0, Europa League, la Roma perde a Salisburgo 1-0, Juve solo 1-1 con il NAMT. E questo ovviamente è il titolo e anche tutti i risultati delle italiane in Coppa. Andiamo avanti con il titolo anche della Gazzetta dello Sport che ci porta ovviamente alla giornata europea ma anche ai temi del campionato. Il titolo di apertura, vedete, l'Inter si rifà in quattro, che sì per Eira, Soincu e Smalling. Skriniar e Brozovic sono in uscita tra i parametri zero e prestiti, Marotta ha già scelto i rinforzi per il nuovo corso. E poi nel taglio alto, Rabbia Juve, Europa League solo 1-1 con il NAMT, segna subito Vlaovic, poi i bianconeri frenano, qualificazione al rischio. C'era un rigore allo scadere e poi ancora la conference, Viola 4-0, Sarri 1-0, Fiorentina poker e nella Lazio gioiello immobile, spiega la Gazzetta dello Sport in Edicolo. Noi torniamo tra poco con tutte le notizie del giorno, con Refresh su Toscana TV e Firenze TV, restate con noi. Alla Copp la tua spesa vale di più. Con giorni più buoni, per una spesa di almeno 15 euro, hai 5 euro di buono che prendi e usi su tutti i prodotti Copp la settimana dopo. La Copp sei tu! Esplorare nuovi territori, questa sono io. Il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini. Con Astra ho scelto una vita senza sprechi, luce green da fonti rinnovabili, il calore naturale per la mia casa e fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza. Tutto questo si chiama scelta pura ed è per ognuno di noi. Cambiamo insieme! Ehi Astra, accendi la luce! Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale! Per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce. Ci sono tanti tipi di tosse. La tosse acuta, la tosse del nonno e la tosse da vera lady. Vivi in Tosse Complete risponde in modo rapido a tosse grassa, tosse secca e gola irritata. Vivi in Tosse Complete 3 in 1. Diverse tossi, un'unica risposta. Quando i sintomi influenzali ti mettono KO, puoi provare Vivi in Duo. Rapido contro febbre, congestione e dolori influenzali. Puoi iniziare ad agire dopo 15 minuti. Così puoi passare da KO a OK. Vivi in Duo, quando il gioco si fa Duo. È i menarini. Gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh. È venerdì 17 febbraio 2023. Stiamo leggendo assieme i titoli e la rassegna stampa di oggi. Buongiorno a tutti da Andrea Vignolini. Con le principali notizie del giorno che ripercorreremo grazie ai servizi di Toscana TG e commenteremo insieme ai nostri ospiti. Dopo le prime pagine è il momento di sfogliare assieme le pagine interne dei quotidiani. Siamo a pagina 2 del Corriere alla Sera. Il caso politico che riguarda il sottosegretario alla giustizia del Mastro. Indagato dai PM, gli atti su cospito erano segreti. Il sottosegretario oggi in procura fu lui a chiedere le carte al DAP. L'opposizione dice deve lasciare. Ricordiamo ovviamente le tappi. Il 31 gennaio il deputato dell'Italia Giovanni Donzelli parlando del caso cospito ha citato in aula conversazioni avvenute nel carcere di Sassari tra cospito e membri della criminalità. Per l'opposizione Donzelli ha citato conversazioni che non doveva conoscere. A riferirgli è stato Andrea del Mastro sottosegretario alla giustizia. È venuto fuori poiché i due vivono insieme. L'indagine e le accuse subito dopo è stata avviata un'inchiesta da parte della Procura di Roma su quelle parole. I magistrati indagano sul Del Mastro per rivelazione di segreto d'ufficio. E poi una notizia che riguarda ovviamente in questo caso gli anarchici. Colpiremo a morte tre manager. La FAI recapita lettere con i proiettili ad aziende del settore militare. Alzato il livello di protezione spiega il quotidiano il Corriere della Sera. Andiamo avanti con invece l'altro aspetto a pagina tre. Palazzo Chigi esclude l'opzione di dimissione di Del Mastro. La linea non cambia. Fratelli d'Italia spiega tutto sarà chiarito. E sulla giustizia chiede agli alleati di abbassare i toni. I dubbi e le tensioni. L'apertura dell'indagine arriva solo due giorni dopo l'intervento rassicurante del guardasigilli nordio. Per la Premier la priorità è evitare altri incianti per varare la riforma del settore. Dunque giustizia che è un settore delicato. Settore delicato è anche quello dell'edilizia e in particolare le ripercussioni negative che potrà avere dall'addio all'eccezione degli sconti del super bonus. Giorgetti spiega era una politica scellerata. Il ministro ogni italiano ha un debito di 2.000 euro. Allarme delle imprese rischio crack. Correzione Tagliani. Draghi ha tentato di correggere una situazione ormai fuori controllo. Parla anche il governatore della Liguria Toti. Il governo trovi la soluzione per tutelare un settore chiave. Domande e risposte molto utili per quanto riguarda tutti coloro che conoscono la vicenda e quindi già sanno tutto. Ma anche chi si vuole interrogare e capire. Gino Pagliuca oggi sul Corriere della Sera. A che cosa porterebbe un blocco delle cessioni del credito? Per limitarci al super bonus bisogna distinguere tre diverse situazioni. La prima è di chi ha già avviato i lavori e soprattutto si è eseguito almeno una cessione a SAL, stato di avanzamento lavori, possibile quando si siano effettuate almeno il 30% delle opere. Non ci dovrebbero essere problemi a ultimare il cantiere. La seconda, molto più incerta, è chi ha depositato la CILAS, la comunicazione di inizio lavori, ma non ha ancora avviato le opere. Qui bisogna vedere gli ulteriori sviluppi e comunque il rischio è di incontrare una controparte bancaria non troppo disponibile. La terza situazione invece appare chiara. Per chi non ha ancora presentato la CILAS non ci sarà la possibilità di cedere il credito. Il super bonus però non viene eliminato. Senza cessione del credito è un bonus per pochi perché per evitare l'incapienza fiscale servono redditi imponibili molto alti. E questo per i condomini, per le billette, si ricorre al quoziente familiare con valori piuttosto bassi, incompatibili con l'importo delle trazioni di cui eventualmente godere. Un blocco avrebbe effetti pesantissimi sulle famiglie, sulle imprese e su tutta la filiera delle costruzioni. Questo spiega il quotidiano Il Corriere della Sera. Poi all'interno, vedete, PNRR, il governo accelera procedure semplificate con più poteri a Palazzo Chigi. Sditta a fine marzo il Via Libera Europeo alla terza tranche del piano. Nel taglio alto poi motivi di salute, la Meloni salta a Monaco e non vede la Presidente del Parlamento Europeo, Mezzola. Siamo a occuparci invece di politica, pagina 10 del Corriere della Sera con il Partito Democratico. Cresce lo scontro su Meloni. Schlein, il mio giudizio è negativo. Dopo gli elogi di Bonaccini e Letta, il governatore a qualcuno piace vincere nei talk show. Nello staff della deputata è il timore di un asse tra Letta e l'altro candidato alle primarie. Parla nell'intervista di Maria Teresa Mieli, il sindaco di Firenze Dario Nardella. Stefano, è stato chiaro, i nostri elettori vogliono i fatti, non gli attacchi, così Nardella. Ora evitiamo di trasformare le primarie in un regolamento di conti dove chi perde sbatte la porta e chi vince prende tutto. Questo Dario Nardella, intervistato oggi dal Corriere della Sera. Poi sul terremoto in Turchia e Siria, oltre ovviamente al dramma delle macerie, dei soccorsi, delle persone che hanno perso la vita, ritrovato il corpo di Angelo Zen, l'italiano disperso. Angelo Zen, 60 anni, era un tecnico specializzato in gioielleria, originario di Saronno, in provincia di Varese. L'uomo era per lavoro a Karemans, la città epicentro del sisma. La sua famiglia, che abita tra Vicenza e Venezia, non aveva sue notizie dallo scorso 6 febbraio. Al varco, migliaia di siriani rifugiati fanno la fila al varco di Baba El Va per rientrare in patria. Quindi c'è anche una situazione molto particolare, perché questo varco è l'unico aperto agli aiuti delle Nazioni Unite. Ci sono migliaia di siriani rifugiati oltre confine in questi anni di guerra, che si stanno mettendo in fila per fare rientro nel loro paese. Tra loro chi ha perso casa in Turchia, ma c'è anche chi accompagna i corpi dei propri cari affinché vengono sepolti nel loro luogo di origine. Una vicenda veramente straziante. Siamo invece a occuparci degli strascichi di Sanremo. Ce n'è uno che riguarda ovviamente Blanco. Sanremo, Blanco indagato per i calci alle rose sul palco e i fan si dividono sui social. L'esposto del Kodakons, accusato di danneggiamenti, rischia fino a 5 anni. Dopo l'episodio Blanco è stato denunciato dal Kodakons con un esposto. La Procura di Imperia l'ha iscritto nel registro degli indagati per danneggiamenti. E poi c'è anche ovviamente il caso pubblicità sul festival perché 5 consiglieri Rai hanno scritto alle maestranze del festival di Sanremo ringraziandole per la straordinaria professionalità dimostrata. Intanto l'autorità per le comunicazioni attende spiegazioni sull'eventuale pubblicità occulta andata in onda. Lo ha detto a strisciare la notizia il commissario Massimiliano Capitanio in quota Lega. Poi la vicenda invece dei fortunati 90 italiani che hanno vinto 4 milioni cada uno per il super in allotto perché sono stati vinti 371 milioni complessivamente. Ma il 6 è stato centrato da 90 giocatori grazie a un sistema con quote da 5 euro primato della Campania con 14 fortunati. Anche la Toscana con Borgo San Lorenzo una quota, Pontassieve, Le Sieci, la frazione una quota e poi Grosseto una quota. Questi sono i numeri che riguardano ovviamente la Toscana. Andiamo avanti con le altre notizie del giorno. C'è il tema delle cartelle, rottamazione più veloce, il calcolo del dovuto lo farà il fisco. Con l'importo disponibile su web o su richiesta, due opzioni per verificare la posizione. Da quest'anno dunque fare pace con il fisco sarà più facile. L'importo che si dovrà pagare con la nuova tornata della rottamazione e le cartelle che rientrano nella definizione agevolata sarà infatti preventivamente indicato dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Andiamo avanti con i titoli del giorno. Lo facciamo anche con questa intervista di Andreev Sheshenko. Sceva, la mia missione è permettere ai giocatori ucraini di giocare ancora. Panchina, sono pronto a ricominciare. Praticamente è a Milano in questi giorni con una cena che è realizzata all'Hotel Gallia con 270 persone per la sua fondazione Football for Ukraine. Vi chiedono a Andreev Sheshenko cosa consiste questo progetto. Quando in agosto sono andato a Irpin davanti allo scenario di una città a Rasalsuolno nello stadio che conoscevo per averlo frequentato quando giocavo nelle giovanili della Dinamo Chievo ho visto due bambini che correvano tra i crateri lasciati dalle bombe. In quel momento mi sono ripromesso di permettere alle nuove generazioni dell'Ucraina di tornare a giocare a calcio. I fondi serviranno a ricostruire lo stadio. E questo racconta Sheshenko. Poi Sheshenko parla anche ovviamente della guerra. Andreev, se ripensa al 24 febbraio dello scorso anno, cosa ricorda? La telefonata di mia mamma in lacrime che mi dice che la guerra è iniziata. Ho subito capito che dovevo mettere a disposizione la mia immagine per aiutare il paese. La foto che porta con sé il primo discorso alla nazione del presidente Zelensky d'incontro con Clinton al palazzo dell'ONU di New York quando fece un intervento magnifico sulla libertà e sul valore della democrazia. E i giorni trascorsi al buio a Kiev quando in seguito un attacco ci fu il blackout totale. Alla gente che dopo un anno si è stancata di sentir parlare della guerra, cosa dice? Capisco gli italiani che lo pensano, ma noi non abbiamo altra scelta che richiamare la vostra attenzione. Il conflitto va avanti e ci sono intere città demolite da ricostruire. Non dimenticateci, questo spiega Andreev Sheshenko ovviamente sul conflitto ucraino-russo e sulla realtà che vive come uomo impegnato proprio per l'Ucraina. Andiamo avanti con i titoli del giorno. Lo facciamo con la Repubblica che parte dal super bonus, stop ai crediti, costi ormai fuori controllo. Il governo inserisce nel decreto legge sul PNRR una norma che blocca la cessione delle banche e dei finanziamenti. Coro di protesta dei costruttori, così affossano imprese e famiglie. Mantovano convoca le categorie a Palazzo Chigi. Il Movimento 5 Stelle condannano a morte chi vuole fare bonaccini del PD a rischio 150.000 lavoratori del settore. Parla il presidente di CNA Dario Costantini. Un incubo per effetto del decreto. Oggi tante imprese fermeranno il lavoro. Ora le nostre 40.000 aziende rischiano la chiusura nonostante abbiano rispettato la legge. Lo Stato trovi una soluzione, spiega il numero uno di CNA. E poi, in retroscena da Giorgetti a Meloni, Blitz ispirato da Draghi, Lira di Forza Italia, uno schiaffo ai nostri elettori. Vedete, la misura del super bonus che prevede agevolazioni e detrazioni e rimborsi per interventi di Lizzi è stata approvata dal governo Conte II, con maggioranza di centro-sinistra e Movimento 5 Stelle. Durante il governo guidato da Mario Draghi, l'ex numero uno della BCE, ha criticato a più riprese la misura definita una delle truffe più grandi della Repubblica, senza però abrogarla. A ottobre 2022, all'insediamento del governo Meloni, il costo del super bonus per lo Stato doveva raggiunto 60 miliardi. Ieri è arrivato in CDM lo stop agli sconti e alla cessione dei crediti. Andiamo avanti con i titoli che riguardano anche, in questo caso, l'economia. Panetta frena i rialzi della BCE. No a corse pazze con i fari spenti. Scrive nell'articolo Tonia Mastrobuoni non dobbiamo guidare come un pazzo a fari spenti nella notte. Forse mai Lucio Battisti avrebbe immaginato di finire in un discorso di un banchiere centrale. In onore dell'ottantesimo anniversario dalla nascita del grande cantatore italiano, Fabio Panetta, ha scelto emozioni per sottolineare che la BCE, se trascinata dall'impazienza dei falchi, rischia di andare a sbattere dolorosamente. Nel discorso di ieri del membro del board della Banca Centrale Europea a un evento del Center for European Reforma a Londra, si coglie un'intenzione molto chiara, rilanciare una discussione che sembra tenere poco conto degli sviluppi dell'ultimo anno, dei ripetuti rialzi di interesse e di un quadro economico talmente incerto da rendere pericolose le previsioni che spingono su un orizzonte di molti mesi. E proprio su questo cosa succede? Ci sono degli effetti proprio sull'economia. Mutui più cari e prestiti in frenata. La medicina che imballa la crescita. Per le imprese l'accesso al credito sta diventando più difficile, oltre che più oneroso. Sui nuovi prestiti in gennaio il tasso è salito al 3,7%. La cronaca con invece una notizia che ci porta da Grigento. Prima lo stupro, poi il video fatto girare. Il suicidio di Alice dopo due anni di calvario. La storia è quella di Alice Schembri che frequentava lo scientifico ed aveva 15 anni quando fu stuporata da quattro ragazzi, due minorenni. Nel 2015 Alice viene appunto violentata a 15 anni da quattro ragazzi che fanno un video. Il 18 maggio del 2017 Alice si uccide. Archiviata nel 2018 la denuncia per isticazione. I PM entrano però in possesso del video fatto girare in rete. E parte l'inchiesta. Il posto della 17enne prima di uccidersi. Quel segreto mi divora. Ora indagati quattro ragazzi. E poi ancora sempre con i titoli del giorno che riguardano in questo caso l'economia. Perché per quanto riguarda la consegna dei nuovi veicoli c'è un'emergenza che riguarda anche i conducenti perduti delle bisarche per auto. È caccia ai trasportatori. Prima la Brexit, poi il Covid, ora la guerra. L'industria dei costruttori non trova camionisti e le vetture restano sui piazzali. Gli stipendi sono in rialzo. Questo spiega il quotidiano La Repubblica. È uno dei mestieri più richiesti della filiera auto e si arriva a guadagnare oltre 4.000 euro al mese se il bisarchista lavora sulle rotte internazionali. Intorno a 3.000 quando rimane in Italia. Fino a qualche mese fa era solo l'assenza dei microcircuiti a allungare i tempi di consegna delle auto. Adesso mancano anche i conducenti del bisarche. Spiega il quotidiano La Repubblica nelle pagine di economia. Andiamo all'interno, nelle pagine che riguardano in particolare le notizie dall'Italia e dalla nazione. Opposizione e imprese sul super bonus. Così si ferma l'edilizia. Saltano 25.000 aziende. Il decreto del governo contestato dal centro-sinistra, Movimento 5 Stelle e dall'associazione di categoria molto duro conte. Giocano sulla pelle dei lavoratori, gli artigiani. E chi aveva investito? Le critiche si concentrano su Forza Italia perché finora aveva sempre difeso il provvedimento. E poi l'aumento dei tassi. Famiglia in difficoltà, stangata sugli interessi dei prestiti. Boom di richieste ma costano di più. Un terzo delle domande per le spese impreviste o per i beni necessari, i consigli per risparmiare. Intanto vedete cosa succede con un prestito di 10.000 euro tra gennaio 2022 e gennaio 2023. Il totale da restituire è salito notevolmente di circa 500 euro, di più di 500 euro e la rata media sale di 9 euro. Questi sono ovviamente i dati che riguardano proprio l'aumento dei tassi. La sfida allo Stato della minaccia anarchica. Busta con proiettile è inviata a un manager. Colpiremo a morte. Un volantino dattilo scritto firmato dalla FAI è arrivato a diverse aziende. Nel Merino un dirigente dell'Aiveco che lavora nello stabilimento di Bolzano e l'anima nera delle operazioni di mercato che portano morte in Ucraina. Poi, forze dell'ordine in allerta, piante dosi, l'attenzione resta alta. Il ministro dell'Interno dobbiamo lanciare messaggi equilibrati e non fare preoccupare la gente. Il PD alla Camera chiede un informativo urgente. Il clima si sta pericolosamente surriscaldando. Andiamo all'interno ovviamente della Nazione con l'ex GKN. Gli scenari possibili. Il salvataggio si complica senza i nuovi investitori. Messa in liquidazione o amministrazione controllata. Quali le possibili conseguenze? Il parere di Stanghellini. Il 24 febbraio. Tavolo al Ministero per la Cassa Integrazione. E ovviamente sul caso di GKN c'è anche una polemica politica. Per esempio il consigliere regionale del Partito Democratico, Fausto Merlotti, attacca il sindaco Fossi dicendo che si occupi di campi dopo lo slogan sul PD con basta perdere. Andiamo avanti anche con le notizie che riguardano Firenze. Siamo sulla prima pagina della Nazione di Firenze. Pronti al decollo. La fotonotizia principale. Il ministro Salvini risponde a un question time di Renzi in Senato. Governo favorevole alla crescita di Peretola. le reazioni della politica. E poi il titolo principale. Supererà l'otto record. 28 milioni. La Dea Bendata ha baciato la provincia. Le quote del sistema vendute al bar Plinio delle Sieci e nell'edicola di Stefano Giannelli a Borgo. Sono una decina d'aver giocato. Speriamo si ricordino di me. Spiega il quotidiano la Nazione di Firenze. E poi ancora il restaglio del Franchi. Sì della sovrintendenza. La relazione di Ranaldi sul tavolo del ministro. È atteso a breve il via libera di San Giuliano. Tutti i punti più delicati. Stoccata di Renzi a Nardella con il PNRR. Meglio fare aeroporti che stadi. Il sindaco non raccoglie la provocazione e dice li faremo entrambi. Andiamo avanti con invece il tema appunto della nuova pista. Si accelera. La compensazione ai comuni ma Sesto non arretra. A Salvini dicono no. Per Lorenzo Falchi sindaco di Sesto Fiorentino il ministro è stato mal informato. La nostra posizione è legata alla contrarietà per motivi ambientali, territoriali e economici. Intanto l'onorevole Fossi è attaccato sui social per il silenzio tombale in merito alla questione aeroporto. Poi appunto il supernalotto dei record. Le quote da oltre 4 milioni di euro. Gioia all'edicola Giannelli hanno vinto giocatori abituali. Il titolare della rivendita a Borgo San Lorenzo sta facendo preparare un cartello per festeggiare. Poi la missione quelle schedine qui le compra al massimo una decina di persone. E quindi diciamo sapeva bene che tra quei dieci sono tutti giocatori abituali. Brindisi di notte in strada il bar Plinio fa il botto. La moglie del titolare l'ho saputo adesso e mi trema ancora la voce. Ultimamente l'affluenza dei giocatori è davvero ampia e si vedono molti sistemi. Ancora non ci sono particolari indizi. Le giocate sono appese in una bacheca e ognuno si serve da solo spiegano ovviamente i titolari del bar Plinio. Poi ex GKN la politica ci spera dura ma se ne può uscire. Gli ultimi sviluppi preoccupano le istituzioni anche se le vie di fuga ci sono. Nardella non perdiamo l'ottimismo Gianni nuovi contatti per il rilancio spiega il quotidiano La Nazione edicola oggi. Poi si parla anche della tramvia al parterre negozianti riuniti ora compensazioni. l'assemblea promossa da confesercenti e quegli assessori le richieste certezza sui tempi parcheggi e misure di sostegno. Siamo anche all'interno delle pagine della metropoli siamo a Scandicci con La Nazione il Luna Park sarà ridotto scatta la rivolta dei giostrai presidio di una cinquantina di operatori ieri pomeriggio davanti al comune togliendo gli spazi del Viale Moro le attrazioni più grandi spariranno. E poi la cronaca a Sesto Fiorentino fratello e sorella rapinati dal branco malviventi in fuga con Rolex e soldi aggressione allo Smanoro in quattro aspettano i titulari di un negozio e gli portano via due orologi e 1800 euro. Poi una notizia invece che arriva da Bagnarripoli SOS Lupi boom di avvistamenti paura no ma serve prudenza centinaia le segnalazioni alla trasforza regionale l'esperto attratti anche dalle buste dei rifiuti organici e dunque avvistamento di lupi a Bagnarripoli. Andiamo anche all'interno del quotidiano La Repubblica di Firenze con i titoli intanto in prima pagina commissario o liquidatore la sorte dell'ex GKM si decide a Roma cruciale l'incontro del 24 per capire se il ministero darà via libera all'operazione straordinaria della QF che ha rilevato lo stabilimento la rabbia degli operai poi a centro pagina vedete Fiorentina l'Europa dei Bomber Iovici e Cabral Poker al Braga Conference League Vittoria Viola per 4 a 0 poi Mercanti voglio un PD che torni tra la gente parla la candidata alla segreteria regionale del Partito Democratico Valentina Mercanti la cronaca uccide la moglie e poi si spara coppia di anziani morta in casa è accaduto a Castagneto Carducci siamo all'interno del quotidiano della Repubblica di Firenze il destino dell'ex GKM si decide al ministero che per ora tace situazione molto delicata dice il presidente della regione Gianni e il sindaco Nardella temevo questo surriscaldamento dei toni ma quali sono gli scenari per il futuro lo spiega nell'articolo Repubblica di Firenze un commissario o un liquidatore l'alternativa che cambia il futuro quindi liquidazione o amministrazione straordinaria il futuro della QF l'evocativo nome 4F fiducia nel futuro della fabbrica di Firenze dato all'ex GKM al momento dell'acquisto da parte di Francesco Borgomeo passa da qui da due opzioni distanti con due procedimenti e conseguenze diverse che verranno discusse al tavolo ministeriale del prossimo 24 febbraio e sull'ex GKM tema ovviamente molto caldo in questo momento per le accuse tra RSU e proprietà ci vediamo il servizio di Toscana TG che è il numero 2 regia grazie il clima è ormai quello di scontro frontale le posizioni tra i sindacati dell'RSU dell'ex GKM e la nuova proprietà di Francesco Borgomeo sembrano inconciliabili QF non ci paga da 4 mesi non si mette in regola con i contributi sfugge ai tavoli dove si discute di cassa ricordano i sindacati più di 280 lavoratori hanno messo in mora QF e oltre 180 stanno procedendo con gli avvocati per il recupero degli stipendi se la proprietà procederà con la liquidazione di fatto una chiusura sarà l'ennesimo schiaffo a istituzioni e tavoli tra le parti sociali aggiungono i sindacati siamo stupiti che il movimento Insorgiamo sia sorpreso che la QF dovrà andare in liquidazione risponde la proprietà addossando tutte le colpe di questa situazione proprio ai lavoratori il movimento politico continua ha fatto di tutto secondo noi in maniera scientifica per far fallire la QF al fine di esplorare appropriare lo stabilimento e disporre dei beni a loro piacimento come sta già facendo senza alcun controllo il 24 febbraio è previsto un tavolo al ministero per discutere dell'ex sito automotive di Campi Bisenzio quella potrebbe essere la sede per parlare di un commissariamento statale che essendo procedura pubblica fornisce maggiori garanzie per i lavoratori noi come regione abbiamo già attivato almeno 4 o 5 contatti speriamo di trovare quello giusto chiederete il commissariamento vediamo quello non è nostra competenza e conseguentemente preferiamo valutarlo in modo concertato con il ministero seduta plenaria del Parlamento andiamo avanti con i titoli di oggi lo facciamo all'interno del quotidiano della Repubblica di Firenze con l'intervista alla candidata alla segreteria del partito Valentina Mercanti è stata nostra ospite qui a Refresh anche a Telegram nelle trasmissioni di approfondimento di Toscana TV non ho padrini ho fatto sempre da sola voglio riportare il PD in bar e mercati maschilismo qualche volta lì ti trattano un po' da bambina perché sei donna ma per farsi ascoltare bisogna essere se stessi a proposito ovviamente delle scelte dice sulla FIPILIA pedaggio per i TIR è un tema che va approfondito e sulla multiutility che dubbi ha nessuno dico solo che è una grande opportunità ma dobbiamo parlarne meglio con i territori cosa va cambiato nel PD toscano e nel governo Gianni che in regione ci siano cose da migliorare non l'ho mai negato le liste d'attesa sono un tema sulle infrastrutture serve uno scatto che ci riporti eccellenza europea su rifiuti urge una soluzione dobbiamo fare il piano regionale di sviluppo penso però che Emiliano sbagli a criticare la regione e la sanità toscana l'assessore Bezzini è un suo convinto sostenitore così come penso non sia credibile quando critica la segreteria regionale del PD di cui lui era numero due fino a pochi giorni fa stimo Emiliano penso farà bene il parlamentare del territorio così Valentina Mercanti e poi i titoli ovviamente della cronaca omicidio-suicidio a Castagneto Carducci uccide la moglie e si spara è stato un vicino a dare l'allarme dopo aver sentito due colpi di fucile lui aveva 80 anni lei 75 ancora con ovviamente i titoli del giorno per quanto riguarda le infrastrutture Salvini dice sì ai fondi del PNRR per potenziare gli aeroporti toscani il ministro risponde a un question time di Renzi in Parlamento e promette anche compensazioni per i comuni contrari come Prato e Sesto la frecciata del leader di Italia Viva a Nardella quei soldi meglio per Peretola che per lo stadio il sindaco raccoglie avanti su Franchi e sullo scalo fiorentino e poi la notizia che riguarda Sanfrediano l'articolo di Duccio Mazzoni a metà settimana Sanfrediano riapre ma solo alle auto questo spiega il quotidiano La Repubblica di Firenze andiamo invece all'interno del quotidiano il Corriere Fiorentino con le notizie che arrivano da Firenze il titolo di apertura tratteniamo qui gli studenti la rettrice Petrucci più servizi alleanza Ateneo Città Nardella un fondo per i fuorisede ieri l'inaugurazione dell'anno accademico il rappresentante degli studenti universitari troppa competizione e pressione sociale e poi il reportage Borgo Sanfrediano silenzio spettrale serrande abbassate e residenti in fuga centropagina Benedetta Coppa e il titolo Braga Fiorentina 0 a 4 l'oppietta di Jovic e Cabral di Ottavi adesso sono a un passo per la formazione viola andiamo all'interno invece partiamo da Sanfrediano grazie alle immagini e agli articoli del Corriere Fiorentino il grande silenzio di Borgo Sanfrediano nell'ex via più cool crescono solo ristoranti e affitti per stranieri addio botteghe storiche e residenti 49 fondi chiusi lo spettro dell'ex Eolo la postina qui sembra che ci sia ancora il covid e non è solo lavoragine e poi vedete due ore di vertice residenti comuni verso l'aria apertura ma non ai bus lunedì il confronto tra i periti su la via e le crepe un abitante abbiamo raccolto circa 40 segnalazioni di danni alle abitazioni è passato il concetto che questo problema riguarda tutta la via non solo un civico e poi a Campo di Marte ZTL Viola ecco i confini ma i tempi restano lunghi residenti e opposizioni consiglio su Campo di Marte duello su Franchi e duello su Franchi tra Renzi e Nardella poi un'altra notizia abbiamo ovviamente dato conto ieri leggendo quotidiani la tragica morte del 68enne Clochard in via Bufalini il no dei Clochard all'accoglienza troppo degrado in quei centri con Kumar e gli altri che rifiutano l'aiuto delle istituzioni e dicono che è meglio stare al gelo sono tanti senza tetto che in città preferiscono restare in strada poi ancora una curiosità che riguarda in questo caso il turismo la spiega Andrea Biagioni sul Corriere Fiorentino di oggi ritornano i turisti dall'Asia e spendono tanto il report Malesia Vietnam ma Thailandia e Singapore le nazioni con più presenze dunque l'arrivo anche dei dei turisti dall'Asia siamo invece una notizia che arriva da Pistoia fiamme nella casa di famiglia muore intossicata una ragazza di 17 anni l'incendio mercoledì sera subito evacuati gli altri otto ospiti della struttura indagini sulle cause dunque è morta mercoledì notte in ospedale a Pistoia una 17enne che era rimasta gravemente intossicata a causa di un principio di incendio divampato nella sua camera all'interno della casa famiglia Masotti dove era ospite su questa notizia tragica ci vediamo il servizio di Toscana TG che è il numero uno regia ragazza di 17 anni ospite di una casa famiglia nel Pistoiese rimasta intossicata nella tarda serata di lunedì nell'incendio divampato nella sua cameretta la ragazza era stata ricoverata in condizioni gravissime nella terapia intensiva dell'ospedale di Pistoia dove ieri sera ha cessato di vivere la struttura che ospita soggetti fragili inseriti in particolari percorsi di assistenza era stata subito evacuata e poi posta sotto sequestro gli altri otto giovani ospiti che non hanno riportato conseguenze fisiche erano stati subito trasferiti in una struttura protetta della Valdinievole il principio d'incendio avrebbe interessato un armadio con vari indumenti e da lì si sarebbe sprigionato il fumo a seguito del quale la ragazza è rimasta gravemente intossicata le indagini per stabilire l'esatta causa del rogo proseguono da parte del nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Pistoia andiamo avanti con i titoli anche del terreno pedaggi in Fippilli la regione rivede le tariffe a ribasso l'intervista all'assessore ai trasporti Baccelli in primavera nasce Toscana Strada S.P.A. nel corso del 2023 la nuova società assumerà le competenze per la gestione e la manutenzione questo spiega il quotidiano il tirreno sulla Fippilli c'è anche l'ipotesi ovviamente di una tariffa per gli autobus turistici andrebbe a colpire un settore vitale ma le associazioni protestano parlano di rincari per gli utenti poi ancora sempre siamo a Livorno con il tirreno morose sette famiglie su dieci i condomini sono nel dramma il 70% degli inquilini non riesce a pagare la rata entro i termini stabiliti la presidente degli amministratori non so quanto potremo andare avanti l'aumento dei costi legati all'utenza sta creando difficoltà a saldare il dovuto il 70% le famiglie che non saldano in tempo la rata del condominio secondo i dati ovviamente resi notti dal terreno di Livorno 25% le famiglie che non saldano dopo il sollecito 10 condomini in cui è stata limitata la pressione dell'acqua un condominio in cui è stata sospesa l'erogazione dell'acqua proprio per morosità dei condomini ci fermiamo per dare lo spazio alla regia torniamo tra poco ancora con tutte le notizie che arrivano dalla Toscana dai capologhi di provincia da Firenze con la rassegna stampa di refresh su Toscana TV e Firenze TV restate con noi un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignone in FIPI troviamo traffico rallentato in direzione Firenze tra Scandicci e Firenze Scandicci per viabilità esterna congestionata in A1 si viaggia in coda in direzione a Roma tra Sasso Marconi e il BV A1 variante di Valico Baccheraia per un mezzo fermo in avaria al chilometro 216 sul d'accordo siano a Firenze possibili disagi per una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni per lavori tra Tavarnelle e Poggi Bonsi Nord riduzioni in entrambe le carreggiate anche tra Monte Rigioni e Colle Valdelsa e tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze in Pluneta Autolinea Toscana ricorda per il trasporto pubblico locale lo sciopero di 24 ore in programma per oggi il servizio sarà garantito tra le 4 e 15 e le 8 e 14 e tra le 12 e 30 e le 14 e 29 Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze Buon viaggio esplorare nuovi territori questa sono io il coraggio di raccogliere le sfide e cambiare le mie abitudini con Astra ho scelto una vita senza sprechi luce green da fonti rinnovabili il calore naturale per la mia casa e fibra per lavorare con le mie connessioni a distanza tutto questo si chiama scelta pura ed è per ognuno di noi cambiamo insieme ehi Astra accendi la luce se hai bisogno di servizi di disinfestazione allontanamento volatili e deratizzazione contatta Lustrino Disinfesta per un sopralluogo gratuito chiama lo 0574 19 40 524 eccoci qua gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV ben trovati a Refresh con le notizie del giorno è venerdì 17 febbraio 2023 buongiorno a tutti da Andrea Vignolini stiamo leggendo insieme le notizie principali che arrivano da Firenze e dalla Toscana con i quotidiani locali torniamo all'interno delle pagine dei quotidiani siamo sul tirreno di Firenze il no del campo di Marte a centro commerciale e hotel spiega il tirreno residenti in presidio davanti al comune di Firenze per opporsi ai nuovi interventi sì al nuovo stadio ma si ridiscuta il progetto del tram è troppo impattante dicono i residenti appunto ovviamente che chiedono in questo caso di rivedere in particolare il progetto della tramvia nel quartiere 2 e poi dal recupero di San Salvi all'area camper Palazzeschi il quartiere 2 si rinnova tutti gli interventi previsti nel nuovo piano operativo l'assessore Verre i progetti rispecchiano la visione di città di prossimità che stiamo costruendo e ovviamente si ricorda i principali interventi i servizi collettivi di San Salvi l'ERS a San Salvi il verde Malcantone il Campofiore l'area camper Palazzeschi l'area di sosta di Settignano il parcheggio in via Bolognese e poi il sottopasso di via Mannelli questi sono ovviamente alcuni degli interventi intanto sui cantieri i negozianti chiedono sgravi incontro di confesercenti e comitato parterre sugli interventi in piazza della Libertà alla riunione hanno partecipato anche gli assessori Giovanni Bettarini e Stefano Giorgetti Santino Cannamela presidente di confesercenti di Firenze ha chiesto appunto sgravi e interventi oggi è una giornata importante per Firenze firma un articolo molto interessante sul tirreno di oggi Filippo Giovannelli che è presidente del corteo storico della Repubblica Fiorentina la forza di una piccola repubblica l'orgoglio e il coraggio di Firenze era il 1530 quando in piazza Santa Croce Bianchi e Verdi si confrontarono ogni 17 febbraio dalle 15 è possibile rivivere l'atmosfera di un'incredibile sfida e vedete la tradizione vuole che il risultato della partita del 1530 non sia noto nessuno fa praticamente menzione neppure ai testi e soprattutto oggi sarà possibile rivivere la partita dell'assedio dalle 15 in piazza Santa Croce e ovviamente la difesa della città venne considerata eroica fu affidata a un esercito che seguì le teorie di Machiavelli e oggi Filippo Giovannelli racconta appunto questa particolarità siamo sul tirreno di Prato il postino non suona due volte via libera alle notifiche digitali spiega il tirreno bando del PNRR dal 2024 gli atti arriveranno in posta elettronica l'assessore Squittieri un vantaggio per noi e per i cittadini ma per le multe sarà più difficile spiega il tirreno di Prato poi ancora il tirreno di Prato al PD non serve un regista parla il vice sindaco Faggi dopo l'intervista al segretario provinciale Biagioni abbiamo bisogno di un garante sarebbe sbagliato ridurre il ruolo di Viffoni impensabile che 400 persone dettino la linea al sindaco ora più che mai abbiamo bisogno di trovare la sintesi scarsa partecipazione al voto delle primarie se fossi Marco non sarei così entusiasta per il risultato spiega il quotidiano il tirreno di Prato poi ancora siamo ovviamente con il tirreno di Empoli stazione ora un presidio delle forze dell'ordine proteste nei residenti troppi criminali le possibili soluzioni la sindaca Bannini stiamo preparando un'ordinanza per limitare l'orario di apertura delle attività il parcheggio multipiano diventerà diventerà a raso e aumenterà il numero di telecamere e anche l'illuminazione questi cambiamenti previsti a Empoli nella zona della stazione ferroviaria più volte oggetto dove si registrano più volte episodi di criminalità microcriminalità siamo invece a Grosseto con una notizia che riguarda la mobilità perché in città ritornano 500 monopattini nuovo gestore unico pronto al via Bar Riders vince il bando novità per la sicurezza e contro la sosta selvaggia spiega il quotidiano il terreno di Grosseto e poi eccoci qua ufficio staff rebus in municipio dopo l'abbandono in blocco si fa il nome dell'ex di Bonifazi e dunque diciamo così c'è un dato molto interessante che riguarda l'ufficio staff del comune di Grosseto dove praticamente l'ex del sindaco Bonifazi potrebbe essere diciamo così coinvolto con una maggioranza completamente diversa quella di dell'attuale sindaco siamo a Lucca scuola ok istituti tecnici nei licei ora tira l'economia i dati sulle iscrizioni alle superiori per l'anno 2023 2024 le classi di domani spiega il terreno il cosiddetto LES presente nell'offerta scolastica degli istituti Isi Barga e dell'Isis Machiavelli riscuote successo andiamo avanti per una notizia che arriva sempre da Lucca attacco a Lampi per l'incontro sulle foibe proteste del centrodestra rifondazione replica una lezione senza ideologie siamo anche a Pistoia bus navetta in centro dopo la protesta dei commercianti di via della Madonna l'assessore ipotesi meno corse e pullman più piccoli spiega il tirreno di Pistoia siamo ancora a Pistoia con una notizia che invece riguarda la carenza di sangue e allarme mancano addetti per i prelievi Fratres e Avis i donatori ci sono non riescono ad avere le prenotazioni e all'ospedale c'è una sala inaugurata tre anni fa che non è stata mai utilizzata saluto il senatore del Partito Democratico Dario Parrini che è in collegamento con noi buongiorno senatore ben trovato buongiorno a voi allora quando ce l'avamo sentiti l'ultima volta era il giorno diciamo così dopo le parole dell'onorevole Donzelli in Parlamento che aveva rivelato diciamo un colloquio tra Cospito e i detenuti mafiosi al 41 bis oggi sui quotidiani troviamo invece il diciamo il proseguo di quella vicenda da un punto di vista giudiziario politico diciamo era diciamo era avvenuto pochi giorni fa quando il ministro Nordio aveva fatto un intervento rassicurante del mastro indagato dai PM gli atti su Cospito erano segreti il sottosegretario oggi va in procura fu lui a richiedere le carte al DAP l'opposizione chiede che del mastro deve lasciare ricordiamo che il punto è il 31 gennaio il deputato dei Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli parlando del caso Cospito ha citato conversazioni avvenute nel carcere di Sassari tra Cospito e i membri della criminalità per l'opposizione Donzelli ha citato conversazioni che non doveva conoscere a riferigli era stato Andrea Del Mastro sottosegretario della giustizia subito dopo è stata avviata un'inchiesta da parte della procura di Roma su quelle parole i magistrati indagano Del Mastro per rivelazione del segreto di ufficio quindi la procura fa il suo lavoro giudiziario mi pare però che Nordio riguarda Sigilli ha tenuto una posizione molto diversa dal punto di vista politico Onorevole Parrini Senatore Parrini Mi pare evidente che siamo di fronte ad una onda lunga di un errore che è anche un abuso una prevaricazione quello compiuto sia da Del Mastro che da Donzelli ovviamente più grave è la responsabilità di Del Mastro che non doveva dare ad altri documenti non divulgabili Donzelli ha aggiunto la sua responsabilità a quella di Del Mastro spiattellandoli in Parlamento per attaccare l'opposizione la vicenda è grave non tanto per i suoi sviluppi giudiziari che a me devo dire interessano fino ad un certo punto ma perché quando si commette una scorrettezza politica di questa dimensione quando si compie un abuso così grande una prevaricazione così grave ci si deve dimettere soprattutto se si ricopre una carica di governo come nel caso di Del Mastro o delle vedove e se si ricopre una carica delicatissima come quella di vicepresidente del Copasi come è il caso di Donzelli perché Donzelli sta in un organismo che tratta di segreti sta in un organismo dove la riservatezza è parte essenziale della funzione dove bisogna essere capaci di tenere a freno la lingua un esercizio nel quale Donzelli che magari ha tantissime altre virtù non ha dimostrato nel corso della sua carriera sia regionale che nazionale di eccellere e quindi bisogna trarre le conseguenze di questi valori politici così grandi quando si incorre in essi non lo stanno facendo si rimostrano soprattutto del maschio delle vedove tragicamente direi attaccato alla poltrona non la vuol mollare viene coperto dal ministro della giustizia che è il vero sconfitto da quello che sta avvenendo perché è evidente che le spiegazioni che ha balbettato il Parlamento non terranno la prova dei fatti mi meraviglio che la presidenta del consiglio Meloni abbia deciso di stendere un cordone sanitario attorno ai suoi due compagni di partito forse in memoria di una giovanile militanza però devono ricordarsi che non sono ad Atrello al festival organizzato della Meloni adesso sono a Palazzo Gigi sono nei palazzi del potere hanno diverse e più alte responsabilità e se ne devono dimostrare ogni giorno all'altezza non si stanno dimostrando per niente all'altezza di questi incarichi che ricoprono e quindi direi che dobbiamo assolutamente con la pressione dell'opinione pubblica con le emozioni di censura che saranno presentate in Parlamento far sì che questa ferita di fronte all'opinione pubblica venga sanata nel solo modo possibile la scorsa settimana quando è scoppiato lo scandalo Del Mastro ci ha detto che avrebbe cambiato poi inquilino perché Roma vive nella stessa stanza nello stesso appartamento di Don Zeni ma Del Mastro deve capire che non deve cambiare inquilino deve cambiare lavoro cioè deve lasciare la carica di sottosegretario della giustizia io mi auguro che una cosa che doveva essere già fatta molti giorni fa e che si è già in ritardo nel non aver fatto venga compiuta in queste ore non ci spero molto ma me lo auguro andiamo invece all'altra notizia del giorno che riguarda un provvedimento delicatissimo su un settore importante come quello dell'edilizia che è quello dello stop ai crediti del super bonus costi ormai fuori controllo spiega il ministro Giorgetti il governo inserisce nel decreto legge sul PNRR una norma che blocca la cessione alle banche dei finanziamenti coro di proteste dai costruttori così affossano imprese e famiglie Mantovano convoca le categorie a Palazzo Chigi allora la sensazione è quella che il costo del super bonus che ha sforato i 60 miliardi di fatto è diventato insostenibile secondo il governo per lo Stato e quindi si blocca tutto il problema è che bloccando tutto c'è una situazione del settore dell'edilizia che in questo momento si trova con cantieri bloccati professionisti che come abbiamo letto nei giorni scorsi sui quotidiani economici non riescono a riscuotere proprio perché i crediti sono bloccati non c'è la cessione dei crediti quindi si innescherebbe un meccanismo domino che è letale per il settore dell'edilizia senatore Parrini io sono basito da questa scelta ho letto che il ministro Giorgetti ha definito scelerata la politica seguita fin qui qui scelerato c'è solo l'atto che lui ha patrocinato ieri in consiglio dei ministri perché scelerato perché non affronta in nessun modo il problema enorme che c'è in questo momento di cui dirò tra poco e ne crea un altro cioè quello di annunciare senza gradualità in maniera rossa la fine di un'agevolazione che comunque ha messo in moto tante cose nell'edilizia facendo lavorare imprese artigiane piccole e medie tanti muratori elettricisti idraulici i palegnani tutti i comparti connessi al settore edile perché non possiamo nemmeno raccontare la parzelletta che col super bonus hanno tratto occasioni di fatturato soltanto pochi grandi costruttori chiunque vive nella realtà e non chiude in una stanza al ministero dell'economia sa che non è così ma il problema che c'era da risolvere era quello di disincagliare i 25 miliardi secondo le stime di crediti che si trovano bloccati che il sistema bancario per aspettative negative per una serie di problemi non sta sbloccando che sono relativi a lavori per i quali si è già chiesta l'autorizzazione e in merito a ciò si attendeva dal governo una spinta alla soluzione del problema l'opposizione aveva fatto anche delle proposte in Parlamento questo problema non viene minimamente affrontato si aggiunge a questo problema un annuncio che avrà conseguenze traumatiche perché abbiamo già visto anche in passato che decisioni così improvvise quotano la fiducia degli operatori soprattutto degli operatori del credito e da oggi sbloccare quello che è bloccato diventerà non più facile ma più difficile quindi mi fa un po' ridere il ministro quando dice intanto facciamo questo perché costa troppo allo Stato poi da domani metto all'opera per sbloccare i crediti non si riuscirà se continua a tenere questo passo e metterà a rischio la vita di decine di migliaia di imprese molte delle quali piccole e anche la serenità e il portafoglio di qualche centinaio di migliaia di famiglie non è esattamente quello che il ministro dell'economia a mio giudizio deve avere come obiettivo il superbono è uno strumento lungi dall'essere perfetto ha bisogno di correzioni ha dei infetti però sarebbe come se lei non voglio fare l'uccello del mauguri avesse il tetto rotto e le piove in casa e per risolvere il problema butta giù la casa quando hai il tetto rotto e il piove in casa chiami qualcuno che ripari il tetto non è che demolisci l'edificio questo stanno facendo diciamo questo poi c'è un ulteriore problema poi per i territori se vogliamo vedere perché molti ci ricordiamo gli anni dei fallimenti immobiliari dove tanti sindaci si ritrovarono sul territorio cantieri non terminati che poi magari sono stati recuperati in un secondo momento altri sono ancora lì e qua si rischia di ritrovarci nello stesso scenario cioè con tanti cantieri fermi lavori fermi che non si sa come riprenderanno se riprenderanno questo è un altro problema poi sui territori esattamente ciò a cui lei fa riferimento sono i costumi della crisi del 2008 che fu una crisi terribile che abbatté l'edilizia italiana in quel caso le cicatrici nelle città furono molto gravi molto visibili perché si trattava per lo più di cantieri di costruzione di nuove abitazioni che sono rimasti fermi per 15 anni purtroppo ce ne sono ancora molti che sono andati incontro a procedure fallimentali che non ripartono e quindi abbiamo dentro i nostri centri abitati queste ferite che chissà quando riusciremo a sanare forse in questo caso non avremo come posso dire lo stesso impatto visivo nei luoghi in cui viviamo ma la conseguenza economica sarà della stessa natura forse più ampia certamente c'è molta sottovalutazione io credo che siamo di fronte ad un errore così grave come quello compiuto per le accise ma più grande ancora per dimensioni e per quantità di persone che subiranno conseguenze non marginali ma molto pesanti senta veniamo a un tema dei territori in particolare lei è senatore proprio del collegio di Empoli le volevo chiedere invece oggi ci sono due pagine del Tirreno che sono dedicate anche nei giorni scorsi al tema del pedaggio in FIPILI per i mezzi pesanti e per i diciamo così anche per i bus turistici si sta studiando ovviamente è uno studio pedaggio in FIPILI la regione rivede le tariffe a ribasso c'è un'intervista oggi all'assessore a trasporti Baccelli in primavera nascerà Toscana la strada SPA oggi intervistata poi da Repubblica Valentina Mercanti candidata dell'area di Bonaccini alla segreteria regionale del Partito Democratico spiega che bisogna approfondire su questo tema dei pedaggi in FIPILI lei che ne pensa? ma che va bene qualsiasi approfondimento però io faccio il parlamentare ormai da più di dieci anni ho fatto il sindaco lungo quella strada per dieci dal 2004 al 2014 e ho sempre sostenuto questa posizione che continuo a difendere oggi la FIPILI è una strada assolutamente inadeguata al flusso di traffico che deve reggere percorrerla è spesso un'avventura perché è troppo piccola perché non ci sono le corsie di emergenza perché dove potremmo fare la terza corsia la terza corsia non c'è tutto questo rappresenta una maledizione per gli automobilisti che spesso si ritrovano in coda e del tutto incerti su quanto tempo impiegheranno per andare da un posto all'altro il che non è un grandissimo aiuto nemmeno alla serenità di chi guida oltre che al suo potrà non essere una buona notizia nemmeno per dal punto di vista dei costi ma soprattutto svantaggia fortemente le imprese che fanno consegne che fanno trasporti che sulla certezza dei tempi di percorrenza basano gran parte della loro efficienza della loro possibilità di essere competitive e devo dire che lungo la FIPL sorgono alcune delle aree industriali più importanti della Toscana quelle che sono nate per la strategicità del collegamento tra il capoluogo della regione e il porto di Livorno perché questo è quel motivo per cui la FIPL ovviamente venne progettata e nacque come tracciato parallelo più a sud della Firenze Mare e queste aree industriali ormai hanno assunto una dimensione importantissima pensi a quella di Scandici pensi a quella dell'Empolese Valdenza pensi a quella del Cuoio pensi a quella della Valdera e allora bisogna metterci d'accordo su un fatto la strada va allargata va messa in sicurezza con la forza di emergenza dove può essere realizzata il governatore Gianni più volte ha fatto due esempi tra la strassigna e Scandici tra Pontevera e Pisa e devo dire che questa cosa è la cosa che noi dobbiamo indicare come una scusate no no prego prego non ci sono problemi da un attimo la cosa che noi dobbiamo indicare come la priorità assoluta è evidente che discutere di pedaggio ha senso soltanto in relazione a interventi che trasformino in una strada inadeguata in una strada adeguata ma questa mi sembra l'intenzione della regione quindi questa è una scelta di sviluppo poi attraverso il confronto con le categorie e anche con i territori con le forze politiche e in questo senso io condivido molto l'appello di Valentina Mercanti bisognerà trovare la misura giusta escludere da qualsiasi onere i pendolari che non fanno quella strada per fare affari ma per diciamo recarsi sul posto di lavoro ma ormai le tecnologie moderne ci consentono di fare questa differenziazione e invece di chiedere un contributo a chi della strada fa un uso massiccio e la utilizza legittimamente perché porta ricchezza al territorio per svolgere la sua attività di impresa io credo che trovare il punto di equilibrio sia possibile se alla fine lo dico per paradosso trionfarsi la posizione niente pedaggio ma la conseguenza è che non si fa niente per migliorare la PPL avremmo perso tutti grazie al senatore del partito democratico Dario Parrini che è stato con noi grazie mille buona giornata e buon lavoro grazie a voi buona giornata grazie andiamo avanti con ovviamente anche i titoli che riguardano la Fiorentina e il successo per 4 a 0 a Braga abbuffata d'Europa il titolo del Corriere Fiorentino all'interno aggressività e qualità Viola Stradipanti a Braga Iovici e Cabral ne fanno 4 qualificazioni in tasca italiano non so perché in campionato non giochiamo così colpi di testa girate e doppiette Luca e Arthur è festa per 2 cinico e decisivo il serbo nelle coppie si esalta ora è a quota 6 centri peraltro la Fiorentina è la squadra che ha segnato di più in Conference League le pagelle di David Guetta con ovviamente voti positivi per tutti su tutti Iovici 8 e Cabral 8 andiamo avanti anche con le pagine interne del quotidiano il Tirreno a Braga soffia il ciclone Viola la Fiorentina blinda il passaggio agli ottavi con le doppiette di Luca e Cabral gara perfetta sotto gli occhi di Rocco Commissio ritorno a Firenze tra una settimana e poi Josip Brecalo ci prova ma serve ancora tempo e il derby è alle porte vedremo se Brecalo recupererà per quanto riguarda la partita con l'Empoli non è stato convocato per la sfida con il Braga italiano è soddisfatto è un passo in avanti restiamo concentrati e poi le pagelle Amrabat macina gioco Sapunara inventa Igor chiude gli spazi Icone costruisce un assist perfetto voto 8 anche a italiano da parte ovviamente del Corriere scusate del quotidiano Il Tirreno chiudiamo anche con la Repubblica di Firenze sorrisi d'Europa poker viola Braga nella festa dei bomber successo contro lo Sporting 0-4 doppiette di Jovic e Cabral sconti tra tifosi della Fiorentina e Polizia e poi le pagelle di Lucio Mazzoni Biraghi e Sapunara partita da applausi voti alti per Jovic 8 per Cabral 8 7 e mezzo a italiano e poi 7 a Sapunara e Biraghi questi sono i voti su Repubblica di oggi noi terminiamo qua questo appuntamento di refresh per venerdì 17 febbraio 2023 da Andrea Vignolini a tutti voi l'agurio di un felice fine settimana noi ci troveremo lunedì con refresh puntuali come sempre alle 6.50 felice giornata a tutti Ale grazie a tutti